C'è anche un appartenente alla famiglia Montana, tra i sei denunciati per la rissa avvenuta in piazza Sant'Agostino ad Arezzo lo scorso 31 luglio. Secondo le indagini dei carabinieri, la scintilla sarebbe partita per l'intromissione di un ragazzo esterno in un litigio tra fidanzati. I partecipanti alla rissa si sono affrontati a mani nude intorno alle 2.30 del mattino nei pressi della scalinata dell'Informa Giovani. Alla fine, in due, i fidanzati da cui proprio era partita la rissa dovranno anche ricorrere alle cure dei sanitari del San Donato con ferite e contusioni. L'attività investigativa avviata nell'immediato è poi proseguita per i giorni successivi attraverso l'ascolto di diversi testimoni. Non è stato possibile però da parte degli inquirenti avvalersi delle immagini delle telecamere di sorveglianza perché non erano abbastanza nitide. Al termine degli approfondimenti sono in tutto sei denunciati in stato di libertà per rissa e lesioni personali. Tre giovani tunisini, un rumeno e due italiani, tutti residenti o domiciliati ad Arezzo tra i 18 e i 34 anni. Uno di loro era rimasto in passato anche coinvolto nelle note vicende della baby gang denominata Famiglia Montana che nei mesi passati aveva seminato il panico tra giovani e giovanissimi con aggressioni e rapine.